Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e ultimo episodio della Pixelmon GX Ragazzi ve l'ho già spoilerato nell'episodio precedente ma fermi tutti non allarmatevi Non è la conclusione di una serie anche perché io sono entrato per ultimo in questa serie qui E quindi insomma non è che mi dura soltanto 30 episodi anzi 31 per la precisione Quindi spieghiamo bene Semplicemente la fine della prima stagione intanto è esponato anche un Virizion che io non sono mai riuscito a catturare Ma è esponato 20 volte E nulla ragazzi a breve a brevissimo anzi comincerà la seconda stagione Che avrà molte novità il mondo non verrà resettato i Pokémon saranno sempre gli stessi Quindi i progressi rimarranno ma ci saranno veramente veramente molte novità Detto questo io in questo video qui volevo parlarvi di molte cose Cioè molte insomma il giusto Ma siccome è esponato Virizion e io non l'ho mai catturato In genere si spona sempre qua dove sono io circa davanti a me Vorrei almeno una volta riuscire a catturarlo Perché non sarebbe male come ecco scopo Perché veramente io non ci credo che non ci sia mai riuscito 20 miliardi di volte mi è sponato 20 miliardi Potrebbe essere verso casa di Tech ma non lo vedo Cominciare con un bel leggendario così ci sta ma subito con un fallimento no eh Nemmeno la minima traccia Non c'è veramente non c'è Comunque tralasciando questa piccola sventura Voglio parlarvi di una cosa importantissima Ovvero guardate il mio lezzissimo team Allora intanto levo tutti i Pokémon che non faranno parte della squadra E metto invece quelli che faranno parte della squadra ragazzi Perché sì alla fine la squadra della mia palestra sarà composta da bene tre leggendari Ovvero Dialga, Zekrom e Rayquaza Ragazzi tre leggendari sono tanti ma non sono troppi Voglio chiarire una cosa Ognuno crea la sua palestra e ogni player che crea la sua palestra decide le regole Io tecnicamente posso fare una palestra di tutti i Pokémon leggendari Di tutte mega evoluzioni Di tutti i Pokémon a livello 80 È ovvio se facessi una palestra di livello 80 Magari la gente dice eh ma io ce l'ho tutti a 70 per le palestre che facciamo E lì si crea un po' un problema però nessuno me lo vieta ecco Quindi ragazzi palestra mia regole mie Chiarita questa cosa so benissimo che il mio Dialga è a livello 74 Ma per l'inizio della prossima stagione Spero di riuscire a trovare un metodo per farlo delivellare Lo so è strano e anche sbagliato da dire Però spero ci sia un modo per riportarla a livello 70 Perché effettivamente ricatturare Dialga è una cosa praticamente impossibile E che tra l'altro non voglio fare Quindi spero di potercela fare in qualche modo Detto questo Rayquaza ovviamente è perfetto Nessun Pokémon di questi qui ha delle mosse diciamo buone O perlomeno che siano decenti E Zekrom devo dire che sono felicissimo di averlo di squadra ragazzi Perché vi ricordo che la missione del team Rainbow Rocket Mi ha dato una bellissima corazza di Zekrom Che come potete vedere è ben custodita qua dentro Quindi beh ragazzi non c'è molto da dire Zekrom va assolutamente tenuto Riguardo ad Altaria e a Charizard Devo dire una cosa Charizard lo stavo facendo evolvere Ma poi ho detto ragazzi non mi interessa farlo evolvere Ci sto mettendo tipo troppo Sono andato a cercare un altro e mi ha sponato E tra l'altro una cosa Ok niente mi sembrava Virizion questa cosa qui Cioè what the fuck i colori sono simili più o meno Comunque tutti quanti nei commenti mi avete detto Guarda tanto che Charizard e Altaria sono due Mega Evoluzioni Tu puoi fare soltanto una Mega Evoluzione a battaglia Nel senso che se faccio Mega Evolvere Charizard Non posso fare Mega Evolvere anche Altaria E qui ragazzi vi fermo Cioè nel senso avete ragione Ma ciò non toglie che io possa metterlo nella palestra Nel senso ok non li posso far Mega Evolvere tutte e due Ma nemmeno mi interessa farli per forza Mega Evolvere tutte e due Quindi è un problema che sinceramente non c'è E tra l'altro ragazzi con la palestra così Finalmente ci sarà anche Gudra Che guardate bellino mi ha accompagnato Sin dall'inizio Di questa lezzissima avventura Quindi diciamo che sì Questa è la squadra ufficiale Rayquaza sei bruttino quando voli così Veramente sembri un serpentello che va a giro E comunque niente mi piace Mi piace E potrebbe venire una cosa veramente figa Io non so se riuscirò effettivamente a fare qualcosa Nel senso di buono A sconfiggere qualcuno con la mia palestra Con questi Pokémon Ma ci si può sempre sperare dai Detto questo Fatto il team Manca la palestra Ma ehi ragazzi Qui qualcuno si è un po' portato avanti Non tantissimo lo ammetto Un pochettino Ora vi illustro Intanto volare così è bruttissimo Ma tralasciando questo Vi ricordate il secondo altare Di Arceus che abbiamo trovato? Beh diciamo che l'ho un po' ristrutturato In modo molto molto lezzo Come potete vedere qui Ma ehi C'è un lavoro dietro Che a mio parere può essere una figata Allora ve lo spiego subito Intanto vorrei rimettere i miei Pokémon normali Perché sennò veramente ragazzi Questi qui tra quelli che volano storti E altro non riesco a capirci nulla Comunque da una parte C'è l'altare effettivamente di Arceus Un oggetto molto molto raro E ragazzi Cosa molto particolare di questo altare Che appunto è una figata Che fa sponare Dialga, Ghiratina e Palkia Tutti e tre Pokémon Ovviamente leggendari Siamo con un'altra storia Ma di tipo Drago E quindi questo diciamo che È il fulcro della mia palestra Il tipo Drago Questo qui semplicemente Comunque è un oggetto scenico Perché effettivamente non è che lo vado a utilizzare Un player si mette qua E come potete vedere L'altro player si metterà qua E con gli scheletrini intorno Che stanno a significare ovviamente Che sono tutti sconfitti In verità Siccome io faccio abbastanza schifo A giocare ai Pokémon Probabilmente vincerà Il pavimento Come potete vedere È cambiato Questa cosa qui Già c'era di suo Però stava qua avanti E ora invece L'ho semplicemente Esplosata indietro In modo da fare tipo Un campo da battaglia Che almeno Esteticamente Li possa somigliare Secondo me L'idea è figa E a vederlo così Ragazzi dall'esterno Ci sta Diciamo che Andare a utilizzare Una struttura Già presente in Minecraft Mi ha molto semplificato Il lavoro Già che sapete Che io faccio schifo A costruire Detto questo Qua c'è il tunnel Invece per accedere A quella zona Non sarà così Ammetto che è brutto Ma non sarà per sempre così Qua a destra E a sinistra Ci saranno probabilmente Delle tech Con i Pokémon Da affrontare Insomma Cercherò di abbellire E fare delle cose carine Mentre l'entrata qua E ancora tutta da fare Pensavo di fare tipo Un drago così E si entrava dalla sua bocca Però ho detto Ehi sarebbe troppo uguale Troppo simile A quella di Fede Che appunto Federic ha fatto Il Geridos E poi noi che si entra Dalla bocca del Geridos Se non sbaglio E quindi No ho rinunciato a questa idea Però lo vorrei fare Con uno stile Non dico simile Ma insomma Abbastanza diverso Ma comunque figo Magari consigliatemi Qualcosa nei commenti Ovviamente questa cosa qui Non la andrò a finire Oggi In questo episodio Ma la andrò a fare off camera E nella prossima stagione Pixelmon Di cui non vi voglio Spoilerare il nome Ma se mi seguite bene Sui social Da qualche parte Lo troverete Comunque La troverete già finita E utilizzabile Quindi la prossima stagione Ragazzi si comincerà In bellezza Veramente con le palestre Già tutti quanti fatte E che potremo affrontare Tranquillamente Veramente una figata Detto questo A me l'idea piace un sacco Non so a voi Ma veramente Spero di sì E ovviamente Per il prossimo inizio Ragazzi Tutta la mia squadra di Pokémon Ovviamente della palestra Sarà tutta quanta Già livellata Circa al 70 Almeno spero Di potercela fare Perché effettivamente A parte i leggendari Che sono già al 70 Gli altri sono un po' Un casino da portare al 70 Però in te riesce A dover fare senza problemi Ma ragazzi Non finisce qui In questa serie qui Io ho catturato Sin da subito Sin dal terzo episodio Un leggendario Che tutti voi Conoscerte benissimo Ovvero Xernias Mi ha accompagnato Per praticamente Tutta la serie Oserei dire come Gudra Anche se Gudra Effettivamente l'ho catturato Anzi l'ho catturato L'ho, diciamo Mi è capitato Tra le mani Molto prima Ma Xernias ragazzi Il primo leggendario Non si scorda mai Ero così felice Tipo Sono appena entrato Nella Pixel In questo nuovo mondo Mi spono un leggendario E lo catturo In modo trash Quindi grazie mille Xernias 98 ma Prima che finisca la serie Voglio farti un regalino Voglio portarti Assolutamente Al 100 ragazzi Perché se lo merita Se lo merita Ovviamente ora guardate C'è appena cliccato Con la caramella Ovviamente non la prende Perché è già al 100 E ragazzi 400 punte vita Tondi tondi Veramente top Quindi le altre caramelle In teoria Scelo qua nel sacchettino E le posso buttare dentro Anche queste Perfetto E dopo questo ragazzi Che dire Conclusione degna di nota Sono stato l'ultima ad entrare Palestra In lavorazione Team per la palestra Praticamente finito A livello dei membri Pokemon Al 100 Il mio primo leggendario Catturato al 100 Diciamo che non me la sono cavata Per così male E per completezza Di questo episodio Ragazzi Ora mi metterò seriamente A cercare Virizion Perché lo metto a cercare seriamente Ah no Ma è desponato No Effettivamente Me l'avete fatto notare anche voi Ma già lo sapevo Che i leggendari Desponano dopo 10 miliardi di anni Cioè in verità Non sono 10 miliardi di anni Ma ci mettono veramente Ore a desponare Infatti io sono entrato ragazzi Prima nella Pixelmon Che qua In questo punto preciso C'era un leggendario Quello che Praticamente Ho ucciso Nel mio ultimo episodio Non mi ricordo Il suo nome Scusatemi Di questa piccola cosa Ho provato a catturarlo Mi ha triggerato E l'ho ucciso di nuovo Però ecco Se vado a giro Un Toria Virizion Dove riuscire a trovarlo Quindi beh Speriamo in bene E concludiamo L'episodio E la prima stagione Speriamo Con una cattura Allora No Allora Aspetta un attimo Figa Questa cosa Mi triggera Assai Intanto lo ingaggio Subito ragazzi Perché E' spassato veramente Un bordello di tempo Quindi ho paura Che possa responare Ah già è vero Lui era al 45 Figa Me ne ero scordato Comunque Mi triggera questa cosa Perché come potete vedere Sulla destra Io sono nel bioma forest Intanto E non sono nelle plains E quindi Prima cosa che non torna E poi Seconda cosa Io lì Prima c'ero passato Io lo stavo Quando lo stavo cercando Lì c'ero passato E lui Non c'era Quindi per quale cavolo Di motivo Ora c'è E prima no Cioè Se era nascosto sotto un albero Quando ci passavo Io comunque sto lasciando questo Lo ridotto a un PS Spero che lui non possa recuperare la vita Ma se non sbaglio Può avere quella mossa Ma non ne sono sicurissimo Il mio Absol è praticamente morto E quindi Io Metto Cavolo Lui se non sbaglio Mi risciuttava tutti i Pokémon Però in effetti Ai tempi Mi risciuttava Xernias Magari anche Per lo meno L'ha passato molto la vita Sì Beh non ora Però effettivamente Ora è livello 100 Quindi cioè Bello mio Non è che puoi fare molto C'è a dire una cosa Mai e poi mai Userò La Master Ball Su di lui Perché la Master Ball Mi servirà assolutamente Nella prossima serie Già che come ho detto Casa Mappa Oggetti E tutto quanto Rimarranno Purtroppo Quando finirò le Ultra Ball Dovrò per forza Provarci di Timer Ball E in quel caso Potrebbe finire male Ma non mi stupirai Perché ragazzi Nonostante sia un Pokémon Lezzissimo Soltanto di livello 45 E tutto Non sono mai riuscito a catturarlo Nonostante mi sia sponato Tipo 4 o 5 volte Una roba simile Forse anche di più Perché nemmeno ve lo fatti A vedere tutte le volte Che è sponato Veramente una cosa assurda Ma ripeto Ci proverò Le voglio consumare tutte le Ball Tranne la Master Ball E comunque sì Xernias sta cominciando A perire un pochettino Quindi Forse finisco prima i Pokémon Che le Ball Potrebbe anche essere Beh è vero In effetti O Già che ha ripresa Non può assolutamente Tirarmelo giù Cioè in nessun modo Quindi da questo punto di vista Mi va abbastanza bene Abbiamo un Pokémon Immortale in campo Anche se un po' Mi fa male E tra l'altro Utilizzando ripresa Andiamo a sprecare Anzi a utilizzare Turni E quindi Con l'aumentare dei turni Le Timer Ball Sono più efficaci Ottima cosa Anche questa Ultima Ultra Ball E come prevedibile Non entra Ora non mi rimane Che le Timer Ball Ragazzi Proviamo E speriamo veramente in bene Regale sto sprecando tutte E non ci sta assolutamente dentro Nemmeno un turno E anche questa E l'ultima Niente da fare E nemmeno in questa stagione Si andrà probabilmente A catturare Virizon Già che non entrerà nemmeno ora Appunto Si è liberato Ragazzi So benissimo che ho Le Bisball Ma tanto non ha senso Provarci con le Bisball Quindi lo andiamo a shottare Di cattivera Facciamoli un fuoco bomb E salutiamolo Due esmeraldi Grazie Tristezza assoluta Speravo di finire in bellezza Con una bella cattura E invece In questa stagione Niente Virizon Un altro Pokémon Che non sarà Mai nostro Però nella prossima A questo punto Andrà preso Anche perché Uno dei miei obiettivi È completare il Pokédex Dei leggendari Chiamiamolo così Detto questo ragazzi Spero che questo video E questa lezzissima serie Vi siano piaciuti Vi aspetto prossimamente Con una nuova Pixelmon E magari chissà Nuove avventure Ciao a tutti